Ragazzi, quando immagino tipo io che sto su un cubo, con i capelli uuuuuh Ciao ragazzi, ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video! Oggi sono qua per fare un video che hanno fatto un po' tutti su YouTube in particolare dall'America, viene ma anche qua in Italia, è una challenge musicale che non devi, cioè ascolti delle canzoni e non devi né ballare né cantare quindi vabbè, è epico, cioè per me che voi sapete che sono una pazza scatenata cioè io dalla mattina alla sera ballo e canto praticamente il 90% delle mie giornate anche nei miei vlog, lo sapete? Perché proprio non riesco a stare firmo quando ascolto le canzoni quindi devo cantarle ma soprattutto devo ballarle quindi non so ci vorranno le catene, i catenacci, le cinture, le camicie di forza non lo so, comunque ci proverò ragazzi, ci proverò cioè non devo fare nulla, senti le canzoni, le canzoni bellissime sai tutte che tu vorresti cantare, non devi né muoverti nulla devi fare nulla anche se no perdi, quindi se canti o balli perdi che ciò si chiama questa challenge io in particolare l'ho vista da Issima a cui vado un bacio grandissimo, ciao mitico ed è colpa tua di questo mio disagio, sei tu l'artefice quindi ragazzi iniziamo subito, proviamoci ma io già so che perderò, un bago sospetto che perderò mi raccomando voi provate assieme a me ragazzi vi lascio nel box info, casomai il link delle canzoni del video delle canzoni che sto vedendo se volete provare con i vostri amici o volete farlo voi comunque provate assieme a me a farlo, ci divertiamo un sacco e taggo in particolare, mi attaggo tutti voi però in particolare mia sorella, mi raccomando andate sul canale di Nancy Nancy fai anche tu questo video perché secondo me è epico è troppo bello, proviamoci dai qui qua ci siamo dai è lenta la canzone no vabbè non devo cantare non posso oh mio dio che voglia di cantare no 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 dai la posso fare ma dai ma come si fa a resistere la canzone che metto io a volte ne vedo non fanno no ragazzi com'è difficile porca miseria adoro questa canzone oh ragazzi com'è difficile voler alzarmi e scatenarmi no 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 state ballando lo so maledetti io tra poco devo uscire niente eh niente sono impassibile devo resistere concentrata concentrata dai pensiamo a cosa fare stasera pizza una bella pizza patatine pizza patatine no 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 non ballerò non canterò no come si fa a non ballare questo sound pizza patatine pizza patatine pizza patatine con la veonese pizza patatine pizza patatine con la veonese noooo adoro questa canzone rihanna una bella pizza con le patatine sopra se posso fare dai 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 la posso fare concentrazione pizza patatine pizza patatine pizza pizza non posso non posso cantare pizza ragazzi quando immagino tipo io che sto su un cubo coi capelli a ballare non ce la faccio devo ballare e cantare voglio far mettere questo divano a cantare e ballare non ci può come si fa sicuramente è finita veramente no 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 non ballerò dai ce l'ho quasi fatta ce l'ho quasi fatta sto quasi per vincere non sto ballando non sto ballando ragazzi è una cosa super difficile cioè è come resistere a un piatto di patatine questo è peggio non si fa resistere a ballare e a cantare c'è questa no 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 come si fa come si fa non ci riesco pizza patatine pizza patatine ha 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 ditemi voi come si fa a non ballare ho Maledetti Maledetti no queste cazzoli bellissime questi video cioè è razzesche non po' bello Incatenatevi Ok Incatenatevi E qua è facile Perché è il mannequin challenge La pizza Stasera è diventata cosa mangerosa No 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 Oh no Ho penso Ho penso Ma che cacchio te la fa Non ce la faccio più È ora che ho penso Ho penso Oh no I know It's time Sometimes Oh 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 I'm falling Ok, ho perso, sì ho perso, ho perso perché non ce la faccio a non ballare e non cantare ragazzi Fatemi sapere nei commenti quale penitenza vorreste che facessi nel prossimo video Se vi è piaciuto questo video lasciatevi un bel like, vi mando un bacio grande, viva la musica e viva cantare e ballare Se fate questo video magari avete un canale, lasciatevi il link così vengo a vedervi, mi fa molto piacere Vi mando un bacino, ciao! Ciao!